Buongiorno a tutti, ci troviamo nella follata città di Fortalesa, capitale dello Stato di Seara. Alle mie spalle è una struttura molto importante, la cattedrale metropolitana di Fortalesa, costruita per il 1939 e il 1978, in stile eclettico, infatti ha elementi sia gotici che romanici. I lavori durarono 40 anni e adesso presenta una torre alta 75 metri, e può contenere fino a 5.000 persone. Si trova in Prasa Pedro II, nota anche come Prasa Tassè, ed è proprio di fronte al bellissimo mercato centrale che vi invitiamo assolutamente a visitare. Quindi contattate Ingeviaticus per il vostro viaggio a Fortalesa per ammirare questa splendida cattedrale, far un giro al mercato e godere anche delle bellezze di questa città che, ricordiamo, presenta veramente un mare favoloso e più di 34 giorni di spiagge. Da Ingeviaticus, da Fortalesa, capitale del Stato di Seara, con la cattedrale metropolitana alle spalle, Ingeviaticus vi saluta e vi invito a seguirci su Facebook, Instagram, sul sito, su YouTube e anche su Radio Svolta, col programma Sogni in Valigia.